Cari amici di Chimeralevo, come avrete potuto intuire, oggi andremo ad effettuare l'unboxing dell'HP Slate 8 Pro. Vediamo cosa troveremo all'interno della scatola. La confezione dell'HP Slate 8 Pro ha un design molto semplice ma ben curato, che vede il tablet trafigurato in primo piano, con in alto il nome del dispositivo ed in basso il logo Beats Audio. Questa però in realtà è una fodera che richiude la vera scatola, che è questa qui azzurra. Una volta aperta la scatola ci ritroveremo davanti al dispositivo vero e proprio, che adesso mettiamo da parte per una recensione più approfondita. Rimosso il tablet e il suo apposito contenitore troveremo altri due scomparti. Il primo, quello in alto, contiene una scatola con tutti i manualetti e le istruzioni che ovviamente non leggerà mai nessuno. Quello in basso invece contiene gli accessori quali cavo USB, micro USB, caricatore e adattatore per prese italiana. Nei prossimi giorni faremo una recensione più approfondita nella quale esamineremo il dispositivo in tutti i suoi aspetti.